Siamo in compagnia di Luca Livieri che è candidato alla Camera per Fratelli d'Italia ovviamente e a questo punto le chiediamo perché qui. Credo che sia una risposta abbastanza ovvia, però voglio sapere da un candidato alla Camera qual è il sentimento nei confronti di questo movimento e nei confronti dell'Onorevole Meloni. Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Corsetto è il modo per far ripartire la voglia e la speranza di un centrodestra italiano che purtroppo per gli avvenimenti che tutti conosciamo è andato in pezzi negli ultimi anni. Il centrodestra ha ancora una vita forte, un calore che tutti ci sentiamo dentro e che vogliamo lanciare nei confronti degli italiani chiedendo la loro fiducia con un forte sentimento di innovazione e di rinnovamento attraverso l'onestà, attraverso i progetti, attraverso la chiarezza, attraverso i comportamenti che poi sono conseguenti ai progetti che vorremmo lanciare. Questo per dare una credibilità alla politica perché noi non abbiamo bisogno di antipolitica, abbiamo bisogno di più politica, politica vera, politica per persone oneste, condannati, peculato. Questi sono temi che devono uscire dalla scena politica italiana da tutti i partiti ma soprattutto da questo centrodestra e quindi noi ripartiamo da qui. Quindi lei sostanzialmente appoggia un centrodestra che prescinde quindi dalla presenza anche del del suo fondatore, del presidente Berlusconi. A questo punto le chiedo, c'è vita nel centrodestra a prescindere da Berlusconi. Voi però come considerate l'appoggio in coalizione comunque con Berlusconi? La coalizione era assolutamente un dato oggettivamente da fare perché la legge elettorale così costruita non conosce altri interventi, si farebbe solo il gioco degli avversari. È chiaro che nell'eventualità della vittoria Berlusconi non sarebbe il nostro Premier, avremo certamente un altro Premier, siamo coalizzati. Berlusconi ha rappresentato per vent'anni una parte della storia del centrodestra italiano, certamente ha portato cose positive, è arrivato il momento di pensare ad altro, di pensare già al dopo Berlusconi. Noi non abbiamo voluto aspettare il 26 febbraio, siamo partiti prima perché è già ora oggi di convincere tanti giovani, tanti uomini, tanti donne che si può cambiare, che si può avere un altro modo di fare politica e quindi questo vogliamo fare. Berlusconi rimarrà a fare il padre nobile se lo vorrà, altrimenti potrà ritirarsi anche la sua vita privata. La politica continua anche senza Berlusconi. In caso di vittoria alle elezioni, nel momento in cui Berlusconi dovesse essere nominato Premier? Questo è assolutamente impossibile, gli accordi preelettorali costruiti tanto da noi quanto da Lega Nord prevedano che è il leader della coalizione oggi perché la legge lo richiede ma che non sarà il candidato Premier. Queste elezioni sono una sorta di primari interne per il centrodestra, il partito di maggioranza relativa interno al centrodestra esprimerà a questo punto il Premier che non potrà essere Berlusconi. Perché siete qui a sentire, ad ascoltare l'intervento dell'Onorevole Meloni? Per condividere un'idea che mi piace e vorrei appoggiare con le prossime elezioni. Idea di? Beh, allora, intanto è un movimento giovane. Ho sentito le varie interviste sui vari telegiornali nazionali che, a prescindere dal fatto che la Meloni è giovane di suo, nelle liste ha tanti giovani e quindi a 28 anni appoggio un giovane piuttosto che qualcun altro. Quindi è tutta una questione di rinnovamento. Rinnovamento, sì, un movimento che cambia un po' tutto, quindi poi la Meloni mi è sempre piaciuta e vorrei appoggiarla. Mi pare di capire quindi che tu sei una di quelle che voleva le primarie così come le ha sostenute con forza l'Onorevole Meloni. A questo punto però ti chiedo, Berlusconi che guida questa coalizione e voi di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione col PDL, come la vedi? Beh, diciamo che Berlusconi è ormai il capostipite del PDL, del Movimento di Destra d'Italia da tanti anni, quindi logicamente anche il Movimento di Fratelli d'Italia appoggia lui. Però rinnovamento c'è e credo che con questo si veda e quindi appoggio quello. Abbiamo incontrato un giovane militante di Fratelli d'Italia a cui chiediamo il perché di motivare questo sostegno a questo nuovo movimento. Allora, sì, fin dall'inizio abbiamo diritto a Fratelli d'Italia insieme ad altre persone perché penso che comunque sia stata una scelta coraggiosa da parte di alcune persone che erano quadri dirigenti di un partito che aveva perso il radicamento sul territorio, hanno fatto questa scelta coraggiosa e di cercare di fondare un partito che fosse nella lungimiranza, nel lungo tempo, un nuovo centrodestra. Un partito quindi comunque lontano da... che fin dall'inizio si è schierato contro le liste bloccate e contro comunque questo potere che si danno alle segreterie. È un partito che ha deciso di non candidare indagati, anche di primo grado, giudicati in primo grado. E' un partito che comunque finalmente sta prendendo e sta valorizzando quelle che sono state classe dirigente territoriale nelle amministrazioni in questi ultimi anni. Senti, io sono stato quest'estate alla festa di Atreiu. Ho visto tanti ragazzi, è stata una cosa anche sorprendente per me. Ti dico, ho chiesto loro perché non volevano più Berlusconi, la guida del loro partito. E loro mi portavano ovviamente delle istanze simili a quelle che potresti portarmi tu e adesso te le chiedo. Nel momento in cui però gli chiedevo che cosa sarebbe successo se non ci fossero state le primarie, quindi se fosse stato Berlusconi ancora il loro candidato, loro alzavano comunque le mani e dicevano vabbè, accettiamo comunque il ritorno di Berlusconi. Tu come la pensi? No, non sono di questo avviso. Infatti comunque poi Fratelli d'Italia nasce anche da quel momento. Infatti quando c'erano state calendarizzate le primarie, Giorgia Meloni insieme comunque a Crosetto e anche altri dirigenti del partito FDL hanno deciso di fare la primarie delle idee, quindi comunque di cercare di rimettere al centro comunque l'impegno politico come impegno civico e civile, comunque come una forma quasi nobile di arte. e no, non sono d'accordo con questa visione comunque di alcune persone che facevano parte della Giovane Italia, infatti comunque il movimento giovanile si è un po' scisso dal momento che molti sono rimasti nel partito del PDL. Molti sono stati cacciati, se si può dire, dall'ex movimento giovanile di alleanza nazionale che era confluito in Forza Italia e poi nel PDL. Leggo dai giornali che sono stati epurati in qualche modo i vecchi versi. Senz'altro far decidere di sostenere un nuovo partito e quindi non più le strutture comunque del partito che era prima di riferimento, fassi che comunque molte persone quindi si debbano impegnare e trovare nuovi strumenti per fare politica. Adesso c'è Fratelli d'Italia che è un partito, spero che comunque dopo le elezioni politiche si strutturi a livello anche di associazioni culturali, associazioni giovanili e perché no anche penso associazioni universitarie e quindi vediamo che sfida proporranno. Quindi c'è vita nel centro-destra oltre Berlusconi? Sì, assolutamente. Intanto perché è qui ad assistere appunto a questo incontro con l'Onorevole Meloni e per il sostegno quindi a Fratelli d'Italia? Ho seguito dall'inizio questa entrata discesa in campo, come la vogliamo dire, della Meloni e mi è piaciuto il progetto, speriamo di realizzare qualcosa di buono con lei. Senta, lei fa parte dei delusi del PDL, quindi che volevano il rinnovamento con le primarie come sosteneva l'Onorevole Meloni? Sì, senz'altro, sono uno di quelli proprio delusi perché è da settembre che chiediamo le primarie e io specialmente facevo parte anche di un coordinamento territoriale del PDL però non avendo risposte proviamo con la Meloni. E come giudicate a questo punto, come giudica lei l'alleanza però comunque con il PDL e quindi con Berlusconi? Beh, diciamo che l'alleanza è imprescindibile altrimenti da soli non si va da nessuna parte penso che sia indispensabile l'alleanza però con una criticità all'interno del partito che farà bene a tutti quanti.